Parte la stagione della Raffa, parte la Serie A di Raffa e Possaccio, alla sua terza annata nella massima serie, spiana letteralmente la neopromossa Flaminio. Finisce 8-0, ma il direttore sportivo Sergio Tosi smorza l'entusiasmo. Abbiamo vinto bene, dice, anzi benissimo, ma abbiamo anche avuto un po' di fortuna, bisogna dirlo. Non vorrei che si desse per scontato che sarà sempre così. Frenare gli eccessi per la partenza a Razzo non è facile, a fronte anche di alcune delle favorite che hanno faticato all'esordio. Nella prima giornata 5 vittorie per le squadre di casa. Oltre a Possaccio vincono Caccialanza, a fatica, 5-3 contro la Kennedy di Napoli, Punto Inno Svigasio per 6-2 contro Nova Inno Smosciano, TME 88 Codogno per 5-3 sulla Boville di Marino, la stessa squadra che aveva chiuso la stagione vincendo la Coppa Italia proprio a Possaccio e poi ai pallini anche la Supercoppa sempre su Caccialanza. Infine, tra le neopromosse, vince Giorgione Trevillese ai danni della Coffer Metal Market per 6-2. Ma veniamo alla gara di sabato. La Terna, Signorini, Scicchitano e Mazzolini, pur tribulando un po' nel primo set, vince 8-4 e poi 8-3 contro Benedetti e Vincenzo Pugliani. Mentre sull'altro campo il singolarista di giornata Cristiano Andreani, in gran forma, si sbarazza di Raffaele e Tomao prima per 8-3 e poi un po' meno facilmente per 8-7. All'intervallo, sul 4-0, i verbanesi rientrano con le coppie Signorini-Scicchitano, 8-6 ai danni di Benedetti e Pugliani e Andreani e Turuani, 8-6 su Tomao e di Vincenzo. A questo punto, sul 6-0, spazio ai giovani che subentrano nelle due partite, Roberto Mazzolini con Tiruani, vittoria per 8-1 e Ryan Regazzoni con Signorini, anche in questo caso vittoria per 8-3. Nemmeno impiegato Nando Paone, febbricitante, che veniva da un'eclatante vittoria nel giorno della Befana a Budrione di Carpi, il ben noto trofeo La Rinascita con oltre 500 partecipanti. La prossima settimana Possaccio va in trasferta sabato e domenica, prima contro Nova Ivox a Mosciano e poi contro Coffer Metal Market nelle Marche.